Il bilancio ci sono diversi corti interessanti, mi piace il fatto che i corti si dividano tra sperimentazione, commedia, sociale, anche genere, mi incuriosisce molto, alcuni registi li vorrei conoscere. Paola Minaccioni ieri sera ti ha ringraziato pubblicamente perché hai partecipato al suo primo cortometraggio da regista e ci puoi raccontare qualcosa di questa esperienza? Non so quanto posso spoilerare però quando Paola mi ha chiamato dicendo guarda caro io voglio fare un corto, ti mando la storia, ho letto la sceneggiatura, mi sono schiantata dal ridere e io sono una che quando trova la commedia giusta mi piace divertirmi perché ho un animo un po' cazzone anche diciamolo. Il suo corto non so quanto posso dire però si chiama Offro io, è soggetto ossessionata dall'offrire e io sono un po' così. Non è la prima volta che sei la protagonista di un cortometraggio? No io ho fatto tantissimi cortometraggi, ora devo dirti con Grandono in Stacco negli ultimi anni a volte ho un problema proprio di incastro perché a volte ho degli altri set o insomma sono in giro perché poi purtroppo e per fortuna oltre al mio lavoro sono pure una girovaga, girovaga come si può dire per passione perché mi piace scappare, vedere, sbirciare. E quindi a volte non riesco a incastrarmi però in passato ne ho fatti molti, già prima di iniziare il primo film della mia vita avevo fatto già 16 cortometraggi e poi ho continuato ancora ma perché io penso che oltre al fatto che i cortometraggi sono una cosa molto bella e 15 minuti o quant'è per raccontare una storia è poco quindi secondo me il regista deve avere le idee molto chiare perché sennò viene annacquato quindi non è così semplice fare un corto ma nella parte prima quando sei ancora un'allieva attrice per un attore è molto importante fare i cortometraggi perché ti insegna il set perché noi non siamo come l'attore a teatro che è tutto su un'emotività e su un egocentrismo permettimi di dire ma tu sei in relazione alla macchina e quando sei in relazione alla macchina devi imparare a gestire la tua emotività in un percorso stabilito e questo è una strana cosa che a me piace tanto io lo dico sempre tu stai facendo la litigata del secolo con l'altro attore in scena piangendo e intanto sotto c'è un macchinista che ti sposta l'anca perché devi andare in una direzione è una roba folle però bellissima